tutti assieme. Ecco, quindi non c'è intanto punto primo, non c'è un tavolo separato tra la Lega e 5 Stelle. No, nel senso che tutti parlano con tutti mi sembra, come è giusto che sia per cercare di capire qual è la soluzione che è molto complicata dati i numeri che sono usciti dalle elezioni. Matteo Salvini ha ricevuto l'incarico da parte di Berlusconi e della Meloni di gestire per conto del centrodestra questa situazione, questa partita, lo sta facendo, domani ci sarà un punto, diciamo così, un punto fermo, si tireranno le somme rispetto a quello che è emerso in questi giorni. Domani vi vedete a mezzogiorno, fine mattinata. Esatto, fine mattinata credo che ci sia questo... Con Berlusconi e con la Meloni. Esatto, e decideremo tutti assieme come coalizione centrodestra, come ci siamo presentati gli elettori italiani, come ci presenteremo con le nostre proposte ovviamente al Movimento 5 Stelle ma non solo, anche al Partito Democratico e a tutti coloro che sono in Parlamento. Quindi voi avete sempre parlato a nome del centrodestra, non c'è stato un momento in cui Salvini ha parlato con Di Maio solo a nome della Lega? Assolutamente sì, una premessa, la Lega e il Movimento 5 Stelle avrebbero i numeri per fare la maggioranza in Parlamento, eleggere le presidenze delle Camere e farsi pure il Governo. Non è nostra intenzione fare questo tipo di processo e quindi noi ci siamo sempre mossi come centrodestra sulle presidenze delle Camere e a maggior ragione in prospettiva di Governo. Quindi non c'è nessuna trattativa separata. Noi abbiamo letto anche in modo sorprendente sui giornali, della ricostruzione, della retroscena. Io capisco che in questi giorni i giornalisti si sforzino di arrivare dove noi non riusciamo a arrivare perché i politici non riescono a arrivare alla soluzione. E quindi leggiamo i giornali per trovare qualche suggerimento, diciamo così. Però al momento sia in termini di nomi sia in termini di formule non c'è assolutamente nessun accordo segreto. Salvini Di Maio, sulle presidenze delle Camere c'è certamente qualche idea che si sta in qualche modo delineando, però dobbiamo confrontarci ovviamente con i nostri alleati per primi e poi anche con tutti gli altri lo riabilisco non soltanto con il Movimento 5 Stelle ma anche col Partito Democratico che rappresenta comunque una forza importante in Parlamento. Quindi lei esclude un Governo Lega 5 Stelle? Io non escludo nulla. Dico semplicemente che il centrodestra che è la forza che ha vinto le elezioni perché noi abbiamo preso 2 milioni di voti in più del Movimento 5 Stelle ha la responsabilità in qualche modo di fare delle proposte che faremo sulla base del programma che gli italiani hanno votato e vedremo su quel programma se si potrà in qualche modo registrare una convergenza, un accordo di un governo che però non duri come dicevano una volta i governi balneari, cioè un governo che faccia 3 mesi, 4 mesi tanto per tirare a campare. Noi abbiamo l'ambizione e la responsabilità di fare un governo che cerchi di risolvere i problemi del Paese, in particolare a cominciare dal problema del lavoro per gli italiani del nord e soprattutto per gli italiani del sud, mi sembra di capire. Quindi questo è lo sforzo e questo è il nostro obiettivo. Se si può fare un governo di 5 anni noi faremo un governo di 5 anni, altrimenti sarà inevitabile... Quindi la storia che voi vi sareste messi d'accordo con Di Maio per fare un governo di un anno, fare legge elettorale e poi giocarla ad un duello magari insieme con le elezioni europee l'anno prossimo è una come si dice adesso fake news. No, non è che fake news, è chiaro che uno da fuori se ragionasse nell'interesse della Lega dei 5 Stelle farebbe esattamente questo, e cioè farebbe sostanzialmente una legge elettorale che favorisce questi due partiti andrebbe subito a votare. Ma siccome noi siamo responsabili, sembra incredibile, ma abbiamo questa responsabilità, siamo arrivati primi al centro-destra, non vogliamo fare questo tipo di operazione. E stiamo lavorando con pazienza e magari non raccogliendo i suggerimenti dei giornali o della televisione per arrivare a un'alleanza più larga e un programma condiviso che duri, ribadisco, cinque anni. Perché questo Paese ha bisogno di un governo forte per andare in qualche modo anche in Europa, dove si stanno conducendo dei negoziati molto, ma molto importanti in materia economica e finanziaria per quanto riguarda il fenomeno dei migranti e dire la propria. Ecco, questo è molto importante. Non possiamo permetterci di avere dei governi deboli o addirittura dei governi come quello in carica che non si è ancora dimesso. Io qui dissi qualche tempo fa, suscitando illarità, è una situazione che in qualche modo dovrà essere anche monitorata perché ci sono tante decisioni importanti che si prendono in Italia e fuori e io penso che il prima possibile l'Italia deve avere un governo nella pienezza delle sue funzioni. Le preoccupazioni di Salustri sono anche le nostre. Noi non vogliamo fare niente che tradisca in qualche modo gli impegni che ci siamo presi in campagna elettorale. Quindi, l'ho detto prima, lo ribadisco adesso. Noi non ci muoviamo in modo disarmonico rispetto ai nostri alleati. Abbiamo però la consapevolezza in qualche modo di essere quelli che hanno la responsabilità, essendo arrivati per primi all'interno della coalizione, in qualche modo di delineare un po' la strategia, confrontandosi con quegli altri. L'ho detto e lo ribadisco. Noi avremmo i numeri per fare un governo con i 5 Stelle. Non intendiamo farlo e credo che neppure i 5 Stelle vogliono farlo con noi. Però o si fa un governo che, ribadisco, dura la legislatura, oppure si torna a votare rapidissimamente. Cosa di cui noi non abbiamo paura, ma temo che altri partiti, non faccio nomi, invece in qualche modo abbiano. Può reggere. Sicuramente un candidato sarà del centro-destra, noi ospichiamo della Lega, ma siccome, l'ho detto prima, abbiamo la responsabilità di essere quelli che, avendo preso più voti, traiano la coalizione. Noi non faremo i capricci se sarà un candidato non della Lega. Quindi se questo potrà permettere di risolvere il rebus, noi saremo responsabili e daremo questa disponibilità. Al momento dobbiamo confrontarci, domani prima di tutto a casa nostra, nell'ambito dell'alleanza, e poi andare a confrontarci con gli altri. Lo ribadisco, perché tutti parlano dei Presidenti e delle Camere. Per carità, sono importanti, ma ci sono anche gli uffici di Presidenza, di Camere e Senato, Vicepresidenti, Questori, Segretari. E in un momento come questo, in cui l'equilibrio uscito dalle elezioni richiede senso di responsabilità istituzionale, tutti quanti lo devono dimostrare. La Lega lo dimostrerà. Spero che lo dimostrino anche 5 Stelle e tutti gli altri partiti. Lei pensa che l'accordo su Presidente di Camera e Senato debba essere legato a filo doppio con un pre-accordo di governo, oppure vede le due partite distanti e distinte? Assolutamente distanti e distinte. In questo momento, se noi cominciamo a ragionare anche sugli equilibri di governo, non eleggiamo assolutamente né il Presidente della Camera né il Presidente del Senato. Quindi io distinguerei esattamente due momenti. Cominciamo a far funzionare il Parlamento e poi ci metteremo al lavoro, anzi si metterà al lavoro il Presidente della Repubblica con tutti i partiti. Nei giorni in cui sembrava che si andasse a un accordo Salvini-Di Maio, Di Maio ha tirato fuori un altro criterio per la scelta dei Presidenti. Naturalmente tutti dicono che devono essere figure di garanzia, figure che possano essere riconosciute da tutti, ma questo è un requisito generale che riguarda i Presidenti delle Camere. Poi Di Maio ha tirato fuori un altro criterio, cioè devono non essere inquisiti. Non essere condannati. Non mi pare che Salvini si sia distinto rispetto a questa. Lei che ne pensa? Ha detto condannati, imputati. Condannati definitivamente è un conto. Imputati, siccome siamo in uno Stato di diritto, è un altro, secondo me. Questo è un giudizio mio personale. Una persona può anche essere, diciamo così, sotto processo e poi essere assolta. Non vedo in termini le obiezioni. La novità è stata che Salvini e Di Maio si sono parlati, non che hanno fatto un accordo. Già questo credo sia stata una cosa importante rispetto a una campagna elettorale in cui i due non si erano manco sfiorati, perché di fatto non c'è stato mai un momento né di incontro né di scontro diretto. Quindi la notizia che in qualche modo va sottolineata è che Di Maio e Salvini si parlano, come Di Maio ho letto ha parlato anche con altri, non solo con Salvini. Questo è un fatto importante, un fatto nuovo. Che ci siano accordi, francamente, mi sembra assolutamente prematuro. Quello che dice Cottarelli, saluto, ci siamo confrontati tante volte in Commissione. Quello che dice Cottarelli è in parte condivisibile, perché le misure sulla giustizia, la sburocratizzazione fanno parte integrante del nostro programma elettorale. Però io penso che lo shock in termini fiscali per in qualche modo svegliare l'economia italiana sia in qualche modo indispensabile. In questo senso, in chiave antagonista in Europa, in Europa secondo me bisogna andare a negoziare e i termini della flessibilità che sono stati concessi negli ultimi due o tre anni al governo italiano sono stati utilizzati in realtà per fare operazioni, diciamo così, di regalie preelettorali, peraltro con scarsa fortuna. Probabilmente quel tipo di flessibilità coniugata a una politica, anche se vogliamo negoziata con l'Europa, di sconti fiscali volti in qualche modo alla produttività, all'incremento del lavoro, alla voglia di fare lo spirito imprenditoriale degli italiani, secondo noi è la ricetta in qualche modo per svegliare la bella addormentata che è l'Italia. Io lo ribadisco, noi ci muoveremo, non perché lo dicono questi sondaggi, ma perché esattamente neanche un mese fa ci siamo presentati assieme agli elettori, non ha assolutamente senso fare qualcosa di diverso. Quindi il lavoro sarà un lavoro paziente, però come per le presidenze delle Camere, ci vogliono i giorni, i giorni e le notti e poi a un certo punto una soluzione arriverà e credo che arriverà anche per il governo. Quello che noi vorremmo evitare è tornare a votare rapidamente e magari candidabilizzare Forza Italia, questo non lo vogliamo e penso che non lo vogliono neppure Forza Italia, quindi anche loro devono collaborare per trovare una soluzione. Senta, ma è giusto che se uno guarda la strategia della Lega, la strategia della Lega che in questo momento esprime il leader che dovrebbe guidare tutta la coalizione, è vero che l'obiettivo vostro, da quello che ci ha detto, è portare tutto il centro-destra all'accordo con i 5 stelle? Questa può essere, non è la nostra stella polare, questa può essere una soluzione se si trovano i punti su cui concordare nel programma. Naturalmente come è stato osservato ci sono dei punti, ho detto bene Cottarelli prima, che ci trovano d'accordo, altri punti che ci trovano diametralmente in opposizione, altri su cui si può trovare un compromesso. Questo è un qualcosa che si vedrà successivamente. Noi, quello che voglio dire con chiarezza, noi non siamo quelli che dicono con i 5 stelle no, mai non ci sediamo neanche al tavolo. Noi al tavolo ci vogliamo sedere, poi se non troviamo una quadra, come si diceva una volta, ne prendiamo atto. Ok, però mi sembra che Salvini abbia detto con Gentiloni, con Renzi, con quelli lì, mai e poi mai. Mentre con i 5 stelle è possibile, con quelli mai. Quindi l'accordo va in quella direzione se si trova. Noi diciamo che, non è che l'accordo va in quella direzione, riteniamo che l'indicazione che non abbiamo deciso noi, ma che hanno deciso gli italiani è abbastanza chiara, l'hanno detto milioni e milioni di elettori e sono i numeri in Parlamento e hanno detto, se vogliamo semplificare, poi potremmo non essere d'accordo, gli elettori hanno detto che vadano al governo i 5 stelle, la Lega, perché questo è il risultato delle elezioni. Ora, noi siamo vincolati, per coerenza rimarremo vincolati all'alleanza di centrodestra, ci dobbiamo sedere, un tavolo, se non ci mettiamo d'accordo e non facciamo cose nell'interesse dell'Italia e rispettoso del nostro programma, prenderemo atto e si tornerà a votare. Se i 5 stelle accettassero di andare al governo con il centrodestra, immagino che il Presidente del Consiglio forse non sarebbe nessuno di quelli di cui si parla. Dovreste mettervi d'accordo su una figura terza oppure no? Pure un governo politico per cui magari Salvini diventa Premier e Di Maio vice o viceversa? Stiamo già fantasticando rispetto a una cosa fantastica, su questa qua mi chiede troppo, io questo onestamente è chiaro che... A noi interessa soprattutto il discorso del programma e dei punti fondamentali che sono, voglio ribadire, non siamo più in campagna elettorale, l'Europa, un atteggiamento diverso sull'Europa, il problema dell'immigrazione è sicuramente la rivoluzione. Solo per...